buongiorno a tutti venuti in questo nuovo video della serie sulla viticoltura oggi vi faccio vedere un lavoro nuovo che non ho mai portato sul canale siamo di fronte a una barbatella del 2020 2021 più o meno è un rimpiazzo di una fallanza di una vecchia vite morta e dato che l'annata è stata particolarmente asciutta calda e la vegetazione è stata stentata andiamo a fare una concimazione molto localizzata con questo prodotto qui che non è nient'altro che l'etame pellettato dato che non si può mettere sulla superficie senza interrarlo perché sennò non servirebbe andiamo prima a fare una leggera zappettatura intorno alla vite e poi lo interiamo togliamo magari qualche erba graminacea che dà un po' fastidio ma una roba veloce deve essere un paio di minuti per pianta se no ci perdiamo tutto semplicemente così quando è la terra abbastanza aperta togliamo questi due pezzi di graminia che non va tanto bene ho pesato circa due o tre etti ma non è che dovete pesarlo più o meno di letame pellettato per pianta tutto attorno qui siamo in realtà qui in piano ma un po' più in giù sarà più in pendenza quindi è bene interrarlo un po' così la pioggia non lo dilava via interrato una leggera spianata giusto per evitare di lasciare delle buche poi qui in mezzo verrà concimato con dell'etame vero e proprio in mezzo all'interfila ma le radici di quella pianta sono troppo deboli corte per arrivare a sentire l'etame dell'interfila quindi abbiamo fatto questo lavoro così è una concimazione più localizzata diamo della sostanza organica e apriamo anche un po' la terra per favorire l'acqua la penetrazione dell'acqua in profondità bene per questo video è tutto vi ringrazio per le visualizzazioni iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video